Realizziamo oggi il classico orologio con la matrice a led, quello che vedete di solito nei negozi o in stazione. Abbiamo visto come utilizzare la matrice a led nei video precedenti, combiniamo le cose e invece che fa scorrere un messaggio visualizzeremo l'ora corrente. Iniziamo subito. Realizziamo oggi un orologio a matrice utilizzando una barra led con il max 7 2 1 9 quindi quel cipettino che trovate montato assieme a quelle matrice led 8x8 quindi il cipettino lo trovate qui queste sono collegabili in serie. Ne ho realizzato una barra con otto elementi quindi molto lunga e in questa barra con otto elementi andrò a visualizzare l'ora corrente quindi che si aggiorna. Avendo otto elementi è facile perché possiamo dividere il tutto e abbiamo i primi due per l'ora poi facciamo due punti i minuti, un altro due punti e i secondi alla fine. Il vantaggio di questi moduletti che utilizzano il chip max 7 2 1 9 che si possono inanellare tutti quindi avete il primo dove collegate il ground e l'alimentazione a 5 volt quindi qui valutate se usare quella di arduino, usarne una esterna per evitare di affaticare il regolatore di tensione di arduino. Poi ci sono tre pin che andremo a collegare ad arduino. Questo qui è il nostro arduino. I pin sono il di IN, CS e CLOCK quindi abbiamo la prima linea. Li faccio con tre colori differenti quindi questa è la seconda e infine abbiamo il terzo pin che vado a collegare sui pin 2, 3 e 4 di arduino. Il pin 2 quindi il giallo è il data IN, il pin 3 è il CS e il pin 4 è il CLK della nostra barra di led. Utilizzeremo alcuni dei sistemi sviluppati nei video precedenti dove abbiamo parlato di questa matrice di led e di come utilizzarla creando un sistema di coordinate globali. Per realizzare l'orologio poi dovremo andare a collegare un modulo RTC. Qua potete scegliere cioè per esempio il DS1307 molto diffuso, molto usato o altrimenti il DS3231. Sono quasi analoghi. Penso che utilizzino addirittura la stessa libreria quindi la RTClib. L'unica differenza da questi due è che il 3231 è più preciso perché ha la compensazione in temperatura anche se hanno il quarzo queste schedine qui quindi sono quarzate e abbastanza precise quindi non dovrebbero avere uno slittamento del tempo che misurano che sia come dire fastidioso o rilevabile però può accadere che il quarzo se esposto a temperature estreme quindi troppo freddo troppo caldo modifichi leggermente la sua frequenza e quindi l'ora possa cambiarsi. Ok quindi scegliete quella che preferite a questo punto se la usiamo in ambienti interno va bene il 1307 per l'esterno o ambienti un po più soggetti a variazioni di temperatura meglio il 3231. Colleghiamola via i2c all'arduino quindi qui troverete i pin sda e scl sulla scheda e poi ovviamente sull'arduino. Andate a collegarli in modo corrispondente scl di arduino sulle scl del nostro rtc e viceversa e lo stesso per l'Sck. Questo circuito che realizzeremo andiamo a vedere l'hardware che è la parte un po più corposa. Partiamo da uno sketch vuoto andiamo ad aggiungere all'inizio l'include delle librerie. Ce ne servono due quindi andiamo su include library, manage library e cerchiamo la rtclib per gestire il nostro modulo con l'orologio quindi faccio rtclib. Instaliamo quella di Adafruit, rtclib by Adafruit 1.11.2. Da me è già installata quindi non procedo e l'altra libreria che ci serve è la led control di Ebralfile versione 1.06 e anche questa è già installata altrimenti procedete ad aggiungere. Includiamo le librerie all'inizio dello sketch. Per il nostro rtc ci serve anche la wire.h per utilizzare il bus i2c poi andiamo a includere anche la rtclib, rtclib.h. Avendo utilizzato il ds3231 vado aggiungere qui rtc underscore ds3231 lo chiamo rtc e poi siamo pronti per utilizzarlo. Aggiungiamo ora le librerie per la nostra matrice di led abbiamo led control.h alcune define per i pin quindi 432 per il clk cs e data in numero di elementi 8 perché io ho 8 blocchi collegati l'oggetto led control lo creiamo subito sotto lo chiamo lc per brevità e gli passo le costanti quindi d in clk cs il numero di elementi. Nel setup possiamo aggiungere l'inizializzazione della seriale quindi serial.begin9006 ci fa comodo per vedere qualche informazione debug e capire se tutto funziona. Andiamo a inizializzare gli elementi della matrice usiamo ciclo for che va da 0 a element la costante che abbiamo creato e qui dobbiamo riattivare i singoli elementi con lc.shutdown di passo l'indice i che va da 0 a 7 e dico forse in modo da accenderli. Impostiamo l'intensità con set intensity l'intensità numero che va da 0 a 15 io la metto al minimo perché non voglio che siano molto brillante anche perché così mi consuma un po meno e poi invoco l'istruzione lc.clear display per ripulirlo. Siamo a posto quindi abbiamo preparato il display adesso ci occupiamo del rtc magari mettiamo un messaggio print ln per indicare che il display è a posto quindi facciamo così matrici matrici ok per la rtc possiamo chiamare il metodo rtc.begin questo va a vedere se tutto è a posto e inizializza la schedina ritorna un booleano quindi se qualcosa andasse storto posso attivare un if vedete ho messo davanti il punto esclamativo perché dico se rtc.begin va bene mi da true altrimenti è false quindi nel caso andasse male con il punto esclamativo lo nego posso entrare qui e qua mettere magari un messaggio per dire controlla le connessioni perché c'è qualcosa che non ha funzionato quindi utile per fare un po di debug eventualmente potrei anche evitare di scrivere sulla seriale e accendere magari un led particolare sul nostro display che a questo punto dovrebbe essere attivo se sono qua qualcosa non va e quindi blocco lo sketch con un while infinito faccio while true e ci blocchiamo qui sposare anche il return per uscire proprio poi abbiamo un metodo sulla rtc che ci permette di capire se è stata sostituita la batteria o se è la prima volta che la utilizzo se chiamo rtc.lostpower questo metodo mi dice appunto se è stata persa l'impostazione e quindi è necessario mettere l'ora scriviamo un messaggio anche qui per avvisare che andiamo a impostare l'ora questo viene fatto in automatico usando il metodo rtc.ajust e passando di due costanti che troviamo già definite nell'ambiente di arduino sono date e time sono praticamente la data e ora prese dal vostro computer gliele passiamo impacchettate con un oggetto date time per dargli il formato corretto ok a questo punto andiamo a sfruttare delle funzioni che avevo già definito per alcuni video sul display a matrici perché rifare da 0 ci costerebbe un po' troppo quindi useremo la funzione pixel che riceve tre parametri x y e una variabile di stato che dice se il pixel corrispondente alla mia matrice va acceso spento utilizziamo questa funzione in modo da poter usare tutto il display come se fosse un unico oggetto quindi il mio display sarà un oggetto unico visto dal software con otto righe e qui otto per otto quindi 64 colonne potete dargli anche forme diverse basta poi adattare la funzione questa funzione va a calcolare visto che se del led per accendere un led singolo ha bisogno del elemento le coordinate l'elemento e ovviamente lo stato per come sono state montate le matrici sui blocchi che io risulta che l'origine qua e noi la vogliamo invece in alto a sinistra questo può dipendere appunto anche dal tipo di hardware quindi valutate questa cosa secondo di come si comporta comunque per come le ho io le operazioni da fare sono queste qua uno individuo su quale elemento su quale elemento andare a lavorare dividendo il valore di x per 8 e troncando l'intero riesco a ricavarmi su quale delle otto matrici vado a lavorare poi ho la x e la y quindi a questo punto diventano locali allora la x devo scalarla del numero di matrici che mi precedono quindi se per esempio la x vale 10 cascherei su questa matrice qua ovviamente devo andare a mettermi sulla seconda colonna di questa matrice con il 10 ricavo l'elemento facendo 10 diviso 8 questo viene uguale 1 e qualcosa tengo la parte intera quindi l'elemento è l'uno poi la x qui dentro la farò facendo 10 meno il numero di matrici che mi precedono ne ho una sola quindi farò 10 meno 8 perché per ogni matrice devo considerare 8 led e quindi mi resta il 2 e la y invece per fortuna la teniamo così potrebbe esserci un ulteriore problema che devo ribaltarle perché sono girate se dovessi ribaltare la coordinata cioè immagino di avere la x che vada da sinistra verso destra ma il mio modulo è montato al contrario quindi lo 0 è sulla destra e il valore massimo sulla sinistra basta girarla mettendo 7 meno quindi come accade da me quindi 7 meno perché la x va da destra a sinistra e poi la riscalo togliendo il numero di elementi come ho fatto qua quindi questo qua è il metodo funzionante anche la y vedete l'ho girata 7 meno y perché è orientata nel verso opposto come mi aspetto poi abbiamo visto negli scorsi video come andare a disegnare uno sprite questo ci serve ancora e lo riportiamo qui sotto questo metodo va a prendere degli spray che abbiamo definito come delle matrici di bit non l'abbiamo ancora fatto adesso ne andiamo aggiungere sarà l'alfabeto che utilizzeremo qui e dovremmo andare a scorrere i bit di queste nostre lettere per andare a visualizzarli chiamando poi la pixel anche qua l'ho spiegato nel video precedente quindi magari andate a vedere uno di video in cui l'ho tratto in modo più dettagliato potete leggere in sovrimpressione il numero del video da andare a vedere l'altra cosa che ci serve è una funzione che abbiamo chiamato find in map che utilizzeremo per andare a pescare il procedimento che faremo sarà questo io dal mio rtc tiro fuori una stringa orario questo orario è un array di caratteri che contiene l'ora quindi sarà 12 2.00 2.58 ho 8 caratteri dovrò andare a prendere per ognuno di questi la corrispondente rappresentazione grafica cioè lo sprite quindi avrò un array alfa in cui ho una serie di rappresentazioni bit per bit dei vari caratteri per esempio per l'1 avrò tutti i 0 e poi avrò 1 1 1 1 1 un modo da disegnare proprio l'1 per quindi posizione 0 ci metto l'1 posizione 1 vado a metterci la rappresentazione binaria quindi i bit che mi servono per avere il 2 e così via anche per il punto e virgola non me ne servono tanti perché bastano solo i caratteri da 0 a 9 il punto e virgola eventualmente lo spazio vuoto mi serve un mapping quindi sarà un altro array in cui ogni suo elemento ha due parti quindi due elementi nella prima parte ho il carattere quindi avrò il carattere 1 il carattere 2 e così via quindi avrò per esempio anche il carattere due punti nella parte di destra invece vado a mettere l'indice dell'array alfa quindi se pesco l'1 e vado a cercare dentro mapping il carattere 1 lo trovo qui troverò l'indice dello sprite da utilizzare quindi troverò dentro 0 che punta a questo elemento qua per i due punti adesso non so dove l'ho messo non mi ricordo più immaginiamo sia posizione 10 quindi troverò 10 e questo numero mi serve per andare a prendere il decimo elemento all'interno di questo array di array alfa che ha la rappresentazione per i miei due punti quindi questa qui è la logica che utilizzeremo torniamo al codice allora teniamo per buone queste funzioni pixel draw sprite e find in map e andiamo dentro nel loop nel loop ci ricaviamo l'orario l'orario lo posso pescare interrogando il mio oggetto rtc questo mi dà una variabile now di tipo dettang questa contiene tutte le informazioni mi vado a creare un array di caratteri lo chiamo char orario aperte e chiuse graffe a cui lo metto nella forma desiderata poi andrò a sovrascriverlo sarà così 00 00 00 mette ore minuti secondi lo andiamo a riempire usiamo una s printf la s printf riceve orario come primo parametro e poi gli diamo la formattazione qui vogliamo formattare i numeri in modo che abbiano lo zero il cosiddetto padding no se l'ora fosse la una voglio che si scrive 0 1 faccio per cento 0 2 di due punti per cento 0 2 di e ancora due punti poi per cento 0 2 di ora il passo le variabili quindi now punto hour passo ore minuti e secondi queste verranno incollate dentro questo pattern mettendogli se serve uno zero davanti e tenendo i due punti quindi due punti non è una parte del pattern ma perché voglio replicare questa forma di di scrittura con in mano questo orario qua se desiderate vedere se funziona potete proprio fare un print quindi fate se era il punto println di orario lo vedete scorrere qui sotto adesso andiamo a fare la traduzione di questa array di caratteri negli sprite e li visualizziamo sarà un po più facile perché non dobbiamo farli scorrere questa volta mettiamo un delay di 500 quindi aggiungo ogni mezzo secondo qui uso un for che scorre i caratteri del mio orario quindi avremo int i uguale 0 punti virgola i minore possiamo usare size of orario perché orario contiene caratteri quindi siamo sicuri che la sua lunghezza viene identificata in modo corretto da orario e poi abbiamo i più più tiro fuori un carattere per volta quindi faccio char c uguale orario metto le quadre di i ora vado a usare la funzione find in map per ricavare l'indice dello sprite quindi se lo sprite è id chiamo find in map gli passo il carattere che abbiamo in mano questa mi dà l'indice della lettera che voglio visualizzare allora id è l'indice dell'elemento devo calcolare la posizione ok la posizione per il primo carattere parto da 0 per il secondo mi metterò a i per 8 quindi a 8 per il terzo a 16 così via quindi faccio la posizione in cui vado a stampare il mio sprite lo chiamo x lettera sarà uguale a i per 8 e a questo punto posso disegnare il carattere draw sprite aperta chiusa la posizione è x lettera virgola 1 e lo sprite da prendere è alfa aperta chiusa quadre e quindi mettiamo id in questo modo andiamo a pescare e comporre la scritta ci manca solo da definire il mapping con gli elementi allora creiamo qui mi metto qua dopo led control vado a creare qui un array di byte mapping questo ha due dimensioni 12 perché ho 12 caratteri che memorizzerò quindi le cifre da 0 a 9 i due punti e lo spazio ogni elemento avrà due parti quindi il carattere e il puntatore quindi un numero un puntatore all'array alfa numerico questo qui è il primo array da andare a riempire poi me ne serve un secondo il secondo è alfa anche questo è di byte alfa a 12 elementi e per ogni elemento tengo 5 righe quindi li faccio abbastanza contenuti potete farli delle dimensioni che preferite ovviamente il mapping vado a riempirlo gli elementi sono questi quindi vado a fare aperta e chiusa graffa virgola quindi qui ho carattere 0 virgola id 0 adesso vado sotto qui nella parte alfa qui vado a definire il primo carattere poi devo fare questa cosa e ripeterla per tutti apro le graffe metto una virgola perché poi continuerò qui dentro definisco lo 0 qui faccio b 2 3 1 1 1 0 0 virgola proseguo aggiungendo le altre righe nell'incolo che le ho già pronte vedete che appare lo 0 e adesso devo andare avanti a farlo per tutte mi serve solo una costante che l'aggiungo qui viene usata nelle funzioni di servizio che abbiamo visto sotto max bar x cioè il numero massimo di pixel difatti element per 8 sono i 64 pixel orizzontali viene usato poi nelle funzioni successive vado a copiare tutto il mapping che ho preparato in precedenza quindi da 0 a 11 vedete questi sono i caratteri riconosciuti e invece sotto ho la parte con i font quindi gli sprite proprio che vado a realizzare anche qui l'avevo già preparato perché ci vuole un po di tempo per andare a scriverseli tutti potete anche poi visto che li scrivete voi dargli le forme più fantasiose se volete li vedete qua vedete in trasparenza si vede 0 1 2 3 4 5 e così via questo qui è tutto quello che dovrebbe servirci vediamo se compilandolo funziona non ci sono problemi no se volete si può fare un'aggiunta già così funziona se volete far lampeggiare come accade in molti orologi i due punti potete andare a mettere dentro il loop allora vi serve una variabile un contatore la chiamo i dentro il loop dovete andare a intercettare un colpo sì e un colpo no il valore di i quindi si può fare con if faccio i per 102 cioè il modulo 2 di i cioè divido i per 2 vado a vedere il resto varierà tra 0 e 1 di volta in volta quando questo è uguale a 1 magari vado a spegnere i due punti come faccio a spegnere basta fare orario aperto e chiuso a quadra il 2 e qui gli metto un carattere vuoto sia per il 2 sia per il 5 cioè sto andando a sovrascrivere questi due caratteri questo qui e questo qua quindi qua me li mette qui li tolgo tanto poi dopo verranno riaggiunti e ricordiamoci anche di fare i più più punto di questo dovrebbe far sì che ad ogni giro una volta le accendi una volta le spegni qui manca un int int i uguale 0 quindi salvo compilo poi sulla demo che ho creato non l'avevamo ancora aggiunto vedete semplicemente l'ora che scorre spero che questo sia un progetto interessante anche perché è utile e diciamo è un must tra i vari progetti che un elettronico dovrebbe provare a fare realizzare quindi avete anche voi il vostro orologio con la barra di led bene spero sia stato interessante vi saluto vi ringrazio ci vediamo domani ciao